Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con Mr. Marchionni del Novara. Era una partita difficile, quest'oggi lo sapevamo su un campo ostico. Che gara è stata del Novara, una vittoria importante? Sì, è stata una vittoria importante, secondo me interpretata bene dai ragazzi. È normale che se lasci il risultato fino alla fine aperto ci possono essere delle insidie, però credo che il Novara oggi abbia meritato la vittoria. Questo sì, adesso ne parlava anche prima della Sanremese, guarda il suo Novara, che adesso avrà la partita prima di Pasqua. Che partita sarà e come recupererà questa squadra? Io credo che fin quando poi si vince e quando hai il detto destino in mano, credo che i ragazzi sono consapevoli che mancano sei partite, quindi saranno sei finali e se noi riusciremo a portare a casa sei vittorie non ci dobbiamo preoccupare di quello che fanno gli altri. Mister, ultima cosa, ci sono alcuni giocatori ancora indisponibili, per questo finale di stagione chi potrà tornare? Io mi auguro, no, la cosa bella è che tutti stanno facendo di tutto per rientrare, quindi questo è molto gratificante perché voglio esserci, voglio dare una mano al Novara a vincere questo campionato. Grazie mille mister. Grazie a voi.